Martedì 28 settembre in Puglia si sono registrati 125 nuovi casi di coronavirus su 13.458 test effettuati, 6 le persone decedute. In provincia di Bari si sono registrati 29 nuovi casi, in provincia di Foggia 22, in provincia di Bat 26, in provincia di Lecce 25, in provincia di Brindisi 9, in provincia di Taranto 18. 2.799 sono le persone attualmente positive al Covid in Puglia, 156 le persone ricoverate in area non critica e 15 si trovano in terapia intensiva.